L'amore si può morire e proprio per l'amore della propria squadra il Foggia hanno perso la vita tre giovanissimi, il più grande Gaetano Gentile di 21 anni, gli altri due Michele Biccari e Samuel Del Grande minorenni rispettivamente di 17 e 14 anni. Erano tutti di Foggia, tifosissimi rossoneri, il primo figlio di Antonio Gentile, uno dei capi storici della tifoseria del Barletta. Mi hai lasciato troppo presto figlio mio, gli angeli ti accoglieranno in paradiso, ha scritto in uno straziante post su Facebook. Tutti, poco prima, avevano sostenuto dagli spalti dello stadio Viviani il Foggia nella sfida pareggiata 1-1 sul campo della Potenza. Non avevano fatto i conti con l'atroce destino e l'appuntamento con la morte, che ha bussato alla porta qualche minuto più tardi del triplice fischio finale di una gara che da quel momento in poi non ha avuto più alcun senso. È tragico il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nei pressi dello svincolo di Potenza Est sulla strada da tempo ribattezzata della morte. Dalle prime ricostruzioni un minivan che trasportava tifosi del Foggia si è scontrato frontalmente con un'auto finendo poi contro un pullman. Un impatto fatale ai tre giovanissimi supporter riconducibili alla tifoseria organizzata rossonera. Altri due tifosi rimasti feriti sono ricoverati all'ospedale San Carlo di Potenza e versano in gravi condizioni. Le notizie che si rincorrono, le voci incontrollate, poi il quadro che diventa chiaro, tre giovani vite spezzate e il dolore che avvolge un'intera città. Cordoglio del calcio Foggia 1920 e del Potenza Calcio, oltre che della Lega Pro. Anche il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, ha espresso la sua vicinanza sui propri profili social. Stamana il vice presidente Emanuele Canonico e l'allenatore Eziolino Capuano hanno raggiunto l'obitorio dell'ospedale di Potenza. Sul posto sono rimasti anche i rappresentanti della tifoseria organizzata, una città nel frattempo scioccata che si stringe attorno al dolore dei cari. È una tragedia che stordisce un'intera comunità. Tragedie immane per un dolore immenso. Non ho altre parole perché altre parole sarebbero solo di circostanza o di nera retorica. Un profondo dolore che invade il cuore. Questa mattina nella mia preghiera, nella celebrazione dell'Eucaristia, ho ricordato questi tre giovani, tre vite spezzate ed è il mistero del male che non è facile né comprendere né spiegare.